Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 16 ottobre e su tutti quanti i giornali si interroga su che cosa ci sia esattamente nel decreto fiscale che è stato inviato a Bruxelles per la manovra finanziaria del 2020. Io dico subito che da quelle piccole cose che leggiamo nella manovra del 2020 fa schifo, fa orrore e sapete perché fa orrore? Perché questa manovra finanziaria fa schifo perché è fatta da gente che non è normale, che non ha, come posso dirvi, Gualtieri, il ministro dell'economia che prende in aereo a Bruxelles ed è stato lì negli ultimi vent'anni, forse ha perso e con questa di maio hanno perso l'idea delle persone normali, di quello che fanno, di cosa vuol dire fare una fattura, di che cosa vuol dire trovare un lavoro, di che cosa vuol dire cazzo vivere normalmente. Questi si sono fissati sull'evasione fiscale e fanno una manovra di merda che ha solo questo titolo, lotta all'evasione fiscale. Come si fa lotta all'evasione fiscale? Oggi leggo a pagina 6 o 7, neanche la 1 ovviamente, del Sole 24 ore che cosa si sono inventati sulle flat tax. La flat tax fu introdotta dal passato governo, l'unica cosa decente che ha fatto il passato governo, fino a 65.000 euro, cioè si diceva se tu sei una partita IVA, un artigiano, un commerciante, una piccola impresa che non riesce a fatturare più di 65.000 euro, io ti rendo la vita un po' più semplice, quindi ti faccio una tassa piatta unica del 15%, sia chiaro, oltre al 15% in genere c'è il 30% di contributi, quindi arriviamo al 45%, contributi che poi col cazzo che vedremo una pensione, ma comunque sia, diciamo ti diamo una tassa al 15% e ti riconosciamo su 65.000 euro di ricavi 10.000, 15.000 euro in maniera forfettaria di costi, ma il senso di quella flat tax era rendere la vita semplice agli italiani che lavorano, perché il primo problema di un italiano che fattura, sapete qual è? È dopo il fisco e la burocrazia e trovarsi un contratto nuovo, fare bene il proprio lavoro, cercare di trovare nuovi clienti, in realtà invece il problema fondamentale per noi che siamo professionisti è quello di fare bene i documenti fiscali, avere il commercialista, chiamare e farsi pagare le fatture, cercare che siano fatte perfette, sperare che il software della fatturazione elettronica funzioni, ma diciamo che questo vale per chi guadagna più di 65.000, quelli che guadagnano meno di 65.000 gli avevano reso la vita semplice, per un principio sacrosanto, cioè chi se ne frega se c'è un evasore in più, ma se rendiamo la vita più semplice a un milione e 500.000 persone, o no? Io la penso così, il governo che è di quelli bravi, di quelli buoni e di Conte, Conte nella vita che cosa ha fatto? Il professore universitario, l'amico di Alpa, il professore universitario che arriva all'università con tutto il rispetto al professore universitario e si prende il suo cedolino, vai cazzo a trovarti un lavoro, prova a trovarti un cliente, fai una fattura, fai un F24, cerca di... Allora che cosa hanno stabilito con questo governo di merda? Sono furibondo, hanno stabilito per esempio che le partite IVA, quelle sotto 65.000 euro, dovranno avere un conto corrente dedicato, autonomo, rispetto a quello che loro hanno per le loro spese personali, cosa che varrà anche per le partite IVA superiori, il che vuol dire che facciamo un bellissimo applauso alle banche, alle quali dovremo dare altri 150 euro, se va bene, di costi bancari, perché dobbiamo avere il conto corrente dedicato per legge, obbligatorio, in più dovremo, le partite IVA fino a 65.000 euro, secondo questi geni contro l'evasione fiscale, l'evasione fiscale è quella delle partite IVA, non diciamo di altre, le partite IVA fino a 65.000 euro, non avranno più i costi forfettari e quindi riporteranno tutti quanti i costi, i documenti contabili, i libri contabili, i bolli, il porco giuda di tutta la burocrazia che tutti noi abbiamo, niente, non c'è niente da fare, la burocrazia ha vinto, se io potessi essere dittatore di questo paese, la prima cosa che farei, la prima cosa che farei è fate come cazzo vi pare, su tutto, volete avere la macchina senza la cintura? Non ve la mettete, vi fate male? Non siete assicurabili. Volete avere il seggiolino per i bambini senza il cicalino che oggi è obbligatorio? Niente seggiolino, poi se vuole mostrano così siete dei delinquenti. Volete? Poi se vi becco, mi faccio un mazzo così, io vorrei un paese libero da regole, da burocrazie, da doppi conti correnti, da responsabilità che ho io se il mio appaltatore, cosa hanno messo in questa legge finanziaria, non paga i contributi sui dipendenti. Questo è un mondo in cui la crescita, non capisco perché sia zero, questo è un mondo in cui la gente dovrebbe scappare via solo cazzo di dipendenti pubblici, questo deve essere un paese di maestre a 1100 euro, non di più, perché se non si produce, come facciamo a pagarle le maestre? Gli hanno dato un aumento, in questa finanziaria dice qualcuno di 50 centesimi, anche troppo, anche troppo l'aumento di 50 centesimi per i dipendenti pubblici, perché il paese non cresce, è quello che si vede chiaramente da questa manovra finanziaria che prevede la crescita all'anno prossimo dello 0,6%, vuol dire crescita zero, poi dopo ovviamente rimane quota 100 che piace tanto ai leghisti e piace tanto anche al Movimento 5 Stelle, quota 100 per far andare in pensione persone, mentre nel frattempo come è evidente nessuno prende il loro posto. Poi che altro ci siamo inventati? Beh ovviamente i contanti, i contanti non si può usare più di 1000 euro di contanti e sarà fantastico, questi geni che non sanno neanche come funziona il nero, cosa succederà? L'ho scritto oggi sul giornale, c'è il mio fondo sul giornale, cosa succederà? Che noi continueremo ad avere 50, 60, 10.000, 1000 euro di contanti e il nero che alimenta il nero, nessuno li riporterà in banca, peraltro in banca non conviene portarli perché gli interessi sono negativi e quindi grande scontro nel governo sull'evasione, il problema è che questo è un paese che si scontra sull'evasione, questo è un paese che dovrebbe scontrarsi sullo sviluppo, invece si scontrano sull'evasione, titolo di tutti quanti i giornali, ma guardate questa roba della flat tax è una cosa incredibile, una no, una manovra, la stampa di oggi, il titolo della stampa di oggi, toc toc giornalisti, tra un po' tanto non c'è dei posti di lavoro neanche voi come io, nessuno di noi avrà un posto di lavoro in un paese che muore, in una terra dei santi, una manovra che sfida gli evasori, e chi se ne frega, ma questo è il problema dell'Italia, una manovra che sfida gli evasori, uno dovrebbe fare un fondo dicendo, e beh, e chi se ne frega, è questo il tema, una manovra che sfida lo sviluppo sarebbe interessante. L'altra cosa che mi diverte oggi sui giornali è la questione di Putin, tutti ne parlano, Putin è cattivo, è un dittatore, è un corruttore, è un miliardario, è un amico di Berlusconi, come scrive oggi Travaglio, che in realtà dice che l'amico di Berlusconi è Erdogan, ma la cosa straordinaria è che Putin, amico di Berlusconi, e Berlusconi è amico anche di Erdogan, ma questo lasciamolo perdere perché riguarda soltanto il portavoce del Movimento 5 Stelle, chi è l'unico che sta dando indirettamente una mano ai kurdi? La Francia? No. La Germania? No. L'Italia? No. Abbiamo venduto le armi a questi turchi e continueremo a venderli nei prossimi anni. L'unico che dà una mano ai kurdi si chiama Putin, il cattivo Putin, che ha detto ai turchi, state un po' buoni, non esagerate con i kurdi, io la trovo fantastica questa storia, cioè che l'unico paese è quella di quell'uomo che noi abbiamo imbargato, l'Europa imbarga Putin, che è l'unico che difende di fatto gli interessi dell'Europa, a far sì che non facciano troppo casino in Kurdistan i turchi. Peraltro gli immigrati che sarebbero arrivati dal Kurdistan alla Turchia, alla Grecia e alla lotta balcanica rompono le balle agli europei, non a Putin. Io la trovo una cosa stupenda, però Putin ovviamente non è toccabile. Ieri poi parlando di piccole cose nostre, c'è stata la grande sfida televisiva, chapeau a Bruno Vespa tra Renzi e Salvini, l'interesse secondo me, io non l'ho vista, però oggi leggo i giornali, finta rissa, dice il giornale, perché in realtà sono tutti e due che vanno a cercare il consenso dei moderati, tutti e due cercano quel consenso dei moderati. Devo dire che lì non capisco perché Salvini, che ha il 33% dei voti di questo paese, in realtà effettivamente faccia un confronto televisivo con un signore che ha il 4% per ora dei voti di questo paese e che a parti invertite secondo me quello scontro non l'avrebbe mai fatto. Ma comunque, Brambilla sul quotidiano nazionale, molto rinnovato nella sua grafica e molto più leggibile, dice molto simili, stesso obiettivo, non tanto i moderati, dice Brambilla, ma far fuori con te. Il Foglio dice invece che il vero vincitore di questa battaglia sarebbe Di Maio, che adesso piace a tutti, piace a Zingaretti, piace a Renzi, piace a Financo, dice al Foglio Di Maio, piace anche a Berlusconi. Anche se guardate non riesco a fare questa rassegna stampa con lucidità per quanto mi fa incazzare questa roba sulle tasse e sull'evasione, che l'unico obiettivo di questo governo è combattere l'evasione, mentre l'unico obiettivo di questo governo sarebbe rendere la vita più semplice a chi ancora ha un cazzo di lavoro di professionista. Whirlpool, a proposito di questo governo che riesce a fare grandi cose, anche il precedente, il titolo oggi della Repubblica è Whirlpool, Napoli, sostanzialmente così si chiude una fabbrica perché le garanzie del governo non convincono gli americani. Pezzo di Giannini che parla invece delle responsabilità del capitalismo è invece secondo. Però 400 famiglie staranno a casa a Napoli per la decisione di Whirlpool e noi possiamo anche cercare di prendercela con Whirlpool e le multinazionali straniere possono anche essere delle tremende multinazionali, quello che volete voi. Ma il punto fondamentale è che il costo di lavoro è alto, che la capacità di lavoro di questo paese è difficile, la burocrazia di questo paese è difficile, la logistica di questo paese è difficile e però noi siamo lì, non a migliorare questa roba qua, siamo lì a pensare che l'evasione fiscale è un problema. L'evasione fiscale è un problema fino a un certo punto, il problema di questo paese si chiama sviluppo, dell'evasione fiscale ce ne dovremo fottere, i 400 che perderanno il lavoro della Whirlpool, se hanno un futuro, sapete dove ce l'hanno? Non in una grande azienda, ma purtroppo nell'evasione, nel nero che ci sarà in quella città. Perché se noi stiamo a aspettare Di Maio, Gualtieri, che riescono a fare tutte le norme precise perché le partite IVA non evadano e si paghino il loro 45%, 30 di contributi, ripeto, e 15 di tasse. Ciao Core e ciao POS, obbligo dei POS per tutti gli esercenti, c'è scritto nella finanziaria, oggi mi sembra di averlo letto un po' su tutti i giornali, il messaggero compreso, e se non c'è il POS e ti chiedo di pagare col POS, oltre a 30 euro di multa al commerciante, gli danno anche il 4% di quello che lui non ha pagato col POS. Allora, questo è un paese in cui non c'è libertà di uno che vende 10 libri, 10, ne vuole vendere 10, vuole avere un social, c'è un ufficetto in cui vuole vendere 10 libri, deve avere il cazzo di POS, perché se non hai il POS, quello è un evasore e quello è il problema italiano. Io invece dico e spero che voi, e così concludo come sempre con il mio spottone, le tasse invisibili, che il libro che ho già scritto e lo trovate su Amazon, lo andate a comprare e a prenotare in una cavolo di bottega senza POS e gli date i soldi cash a quello lì, perché siamo ancora un paese libero e io posso vendere un libro cash e non succede nulla se vendo un libro cash, si può fare, non sei un appestato se non hai il POS in un paese normale, perché il POS magari ti costa e perché magari tu non vuoi fatturare tanto e magari il tuo terzo lavoro e magari hai 90 anni e magari vivi in uno di quei 5.000 comuni che non hanno 5.000 abitanti ed è piccolo ed è mal connesso e la vita è fatta anche di cash. Ecco, questo bisognerebbe spiegare a Gualtieri e al professore Conte, che da Foggia arriva. Conte, da Foggia! Adesso ti sei montato la testa che vai a Bruxelles. Da Foggia! Pensa che cosa sono i nostri paesi. E poi dopo, vabbè, lasciamo perdere e ci sentiamo domani come sempre con la zuppa di porro. Ciao!